Siamo in compagnia di Gianluca Codagnone, Managing Director of Fidentis. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Intanto volevo partire con un commento su tutto ciò che hanno detto, perché abbiamo visto una reazione immediata del mercato obbligazionario, un leggerissimo rialzo dei rendimenti sia decennale che il trentennale. Lei è d'accordo con tutto ciò che dice Powell e Yellen e bisogna essere effettivamente tranquilli? Non saprei che dire, nel senso che è stato realizzato il package da 1.9 trillion dollars e c'è molto dibattito sul fatto che questo sia too much o not too much. Ci sono pareri molto diversi, anche sulla spinta potenziale inflazionistica. C'è un famoso dibattito anche in corso tra Krugman e Summers e altri economisti. Onestamente non lo so, le prospettive di rialzo del PIL americano quest'anno sono intorno al 6%, credo che dipenderanno molto anche dal fatto che la campagna vaccina le termini in modo che finisca e che i vaccini tengano e i contagi non risalgano. Cioè, chiaramente con un PIL che fa più 6% sarebbe difficile vedere un altro stimolo da 3 trilioni, nella mia opinione, però non so. Mi sembra che sia un momento dove si può dire un po' di tutto, francamente. Ecco, questo ovviamente ieri il WSJ, The Wall Street Journal ha rivelato addirittura alcuni dettagli da questo pacchetto. Noi ci torneremo, ritorneremo, intanto monitoreremo le dichiarazioni breaking per quanto concerne la testimonianza al Senato. Torniamo però in Europa e parliamo della campagna vaccinale. Intanto lui è in pressing su AstraZeneca, mostra i denti sull'export dei vaccini, ha ritoccato, ha rivisto anche le regole per quanto concerne le esportazioni, due dei criteri principali, reciprocità e proporzionalità. Questo potrebbe spingere i mercati europei al rialzo e poi ne parleremo anche di questa decisione, se sia giusta o meno. Allora, io qua non so, è una cosa molto delicata e mi rendo conto, ma io non so se in queste situazioni sia molto costruttivo cominciare a fare dei ban sugli export di questo tipo, perché poi finisce che anche gli altri paesi lo fanno e faccio per dare un'idea, il Serum Institute di Pune in India contribuisce alla produzione del 70% dei vaccini che ci sono in circolazione, perché se si mettono a farlo loro non si vaccina più nessuno. Quindi, onestamente, io credo che tutto quello che è successo in termini di contrattuali tra Europa e società che fanno i vaccini e la differenza che c'è tra l'Europa e gli Stati Uniti dipenda più dal fatto che gli Stati Uniti e Israele sono partiti un mese e mezzo prima che da altre situazioni. Io penso che entro un mese e mezzo il problema della mancanza delle dosi vaccinali non ci sarà e credo che sì, si poteva forse fare qualcosa di meglio, ma oggettivamente per fare un accordo in Europa bisogna mettere d'accordo 27 paesi e non è la cosa più facile del mondo. Per cui io, sì, adesso, anche oggi c'è stata questa polemica tutto il giorno sulle dosi di AstraZeneca in Agni, ma poi alla fine si vede che sono un pezzo europeo, un pezzo di COVAX, cioè sono tutte polemiche che vanno bene sui social, per carità. Però, secondo me, è veramente un modo di guardare le cose un po' esagerato. Poi è ovvio che tutti vorrebbero vaccinare il più velocemente possibile, però, ripeto, rispetto ai paesi che hanno vaccinato di più, noi siamo indietro per altre situazioni, cioè non è che ci sono le dosi in frigo e non si vaccina, non ci sono le dosi perché siamo partiti un mese e mezzo dopo, l'Europa ha puntato tanto all'inizio su alcune società che non hanno poi prodotto un vaccino, che sono Sanofie, JSK e Merck, e vabbè, è capitata. Però io credo che in un mese tutti i gap che ci sono con i paesi più grandi non ci saranno più, almeno come disponibilità. Poi come vaccinazioni un altro discorso vedremo. Sì, assolutamente. Intanto stiamo vedendo un cartello di ISPI che ci sta dimostrando dosi consegnate a ogni 1000 abitanti. Per quanto concerne l'UE sono 33, per quanto concerne il UK 210, quindi comunque stiamo parlando di una differenza troppo significativa per essere abbastanza tranquilli. Veniamo però ai mercati, stiamo vedendo comunque l'enesima seduta sotto tono. In Europa, anche se Piazza Affari sta recuperando terreno in rialzo dello 0,31% in questo istante, la campagna vaccinale rimane il market mover principale, innanzitutto e secondo abbiamo visto sicuramente un calo dei mercati dopo l'annuncio dei lockdown, soprattutto anche dei contagi, questa terza ondata che pesa sui mercati. Quindi effettivamente la campagna vaccinale, come dire, conta e come? Sì, diciamo che dall'ultimo mese, nell'ultimo mese si sono visti, diciamo dagli ultimi 30 giorni si è vista una rotazione verso i titoli più ciclici, auto, travel and leisure, chemical, construction, eccetera, eccetera. E se si va a vedere, anche dall'inizio dell'anno, quest'anno il settore che è andato meglio dell'S&P 600 europeo è travel and leisure, con le banche e le auto, che sono tre settori tipicamente ciclici o late cyclicals. Quindi il mercato ha una sostanziale fiducia che i problemi legati al SARS-CoV-2 quest'anno vengano, si ritorni diciamo a una specie di normal. Questo dipende assolutamente dalla campagna vaccinale, io credo che in questo momento il mercato sia apprezzato per il fatto che la campagna vaccinale avrà un esito positivo, se poi sarà il secondo quarter o il terzo, io credo che gli operatori finanziari se ne interessino anche abbastanza poco, perché non è che sulla valutazione delle società un trimestre faccia una grande differenza. Questo è quello che è apprezzato dal mercato. Se succeda questo è che il virus venga tenuto sotto controllo, che le varianti non facciano un escape dall'immunità sia vaccinale che da infezione, questo vedremo, c'è un grande dibattito tra tutti gli scienziati, per adesso c'è una certa tranquillità che col vaccino si ponga fine alla pandemia, e quindi è apprezzato questo scenario. Vediamo, non ho un'opinione molto forte su questo fatto, onestamente. Io penso che sicuramente se si guardano i PMI e tutti gli altri early indicators... Eh sì, che sono stati un netto miglioramento, bisogna dirlo, quindi c'è un po' di luce in fondo al tunnel. Sì, sì, il PMI è un indicatore con interviste, come sai, e quindi ti dà il polso di quello che pensano gli operatori economici, perché è fatto a domande. E effettivamente, e questo si vede anche nei prezzi di borsa, c'è apprezzato questo scenario. Se tu rosi, come dicono gli inglesi, o no, non lo so, vediamo. Certamente c'è poco, diciamo, il mercato è incredibilmente forte in questo momento, anche perché ci sono grandi sostegni di liquidità, no, da tutti i governi, ancora. Come se fossimo nella recessione. Cioè c'è lo stesso tipo di misura che c'era nel momento di recessione più pesante l'anno scorso. In più l'economia si sta riprendendo. Quindi per quello c'è tutto il dibattito sull'inflazione, no, in questo momento. Perché si sono accoppiate, diciamo, politica monetaria molto lus, politica fiscale molto aggressiva e economia che sta riprendendo. Ecco, appunto, considerando questo tema dell'inflazione che è sempre più presente nella nostra quotidianità sui mercati, soprattutto, le volevo chiedere come avete ritoccato, se lo avete fatto, i vostri portafogli, soprattutto il vostro focus nel 2021, o almeno per la seconda parte del 2021, considerando tutto ciò che accade con le banche centrali, siamo in attesa anche del Next Generation EU, speriamo, senza ritardi. Ha ribadito più volte la presidenza della BCE, Christine Lagarde, quanto è importante che sia senza ritardi, perché abbiamo già visto la distribuzione dei fondi negli Stati Uniti ed ha un impatto piuttosto importante, sia sull'economia ma anche sulla vita dei cittadini americani. Quindi avete ritoccato, avete cambiato il focus, perché, per esempio, abbiamo notato una forte performance del comparto dei utility su una rotazione di mercato partita ormai già da un bel po' di tempo e che impatto ha il discorso inflazionistico sui portafogli degli investitori? Noi, all'inizio dell'anno, anche noi, abbiamo consigliato titoli un po' più, diciamo così, collegati all'andamento economico, quindi, diciamo, cosiddetti titoli del reopening trade, però siamo anche molto attenti a quello che può succedere perché le performance di alcuni di questi titoli hanno già corso parecchio e nelle valutazioni c'è già una ripresa economica piuttosto forte. Diverso il discorso sulle banche, perché le banche, come in tutti i paesi, ci sono moratorie cospicue, bisognerà vedere quanti di quelle moratorie decadono in NPS e quindi è difficile ancora andare a investire su delle banche, sulle azioni delle banche, per noi almeno, perché bisognerà vedere appunto che tipo di decadenza in NPS e in MPI ci sarà di tutti quei prestiti in moratoria. Dopodiché ci sono temi specifici in certi paesi come l'Italia di consolidamento, perché è ovvio che le banche più piccole tenderanno a aggregarsi, forse ne avevamo già parlato l'ultima volta che ero stato qui, e prima di vedere delle M&A cross border tra paesi, secondo me si vedrà in certi paesi come l'Italia il consolidamento interno. Ecco, però non tutti i stakeholder sono molto contenti da questo fatto, in particolar modo quelli di Unicredit, perché non gli piace l'idea di una possibile fusione con Monte dei Paschi di Siene, intanto Andrea Enria ha detto più volte che però per la sopravvivenza delle banche europee, in particolar modo di quelle italiane, è proprio necessario l'M&A, ovvero le fusioni, come già abbiamo visto verso la fine del 2020 fare in Tesa San Paolo. Quali sono le sue posizioni sotto questo punto di vista? E non solo, in particolar modo il comparto bancario italiano, che bisogna dire sta facendo un ottimo lavoro, poi abbiamo visto anche le trimestrali, che erano molto buone, anche durante le nostre trasmissioni in inglese, focalizzate ovviamente sui mercati americani, bisogna dire che abbiamo sentito tantissimi investitori americani molto interessati nel comparto bancario. Voi non lo siete, perché? No, allora, sulle banche, anche in Europa, si sono visti in questi ultimi due o tre quarter accantonamenti, diciamo, per i rischi futuri dei possibili MPL molto variabili tra banca e banca, cioè non c'è stato, diciamo, un atteggiamento, una media, con tanti valori vicini alla media. Ci sono state banche che hanno riservato in maniera molto aggressiva, ipotizzando perciò che una certa parte delle moratorie finisse in sofferenza e altre banche che hanno riservato poco, dove il costo del rischio è stato accantonato poco. Allora, lì, secondo me, io per quello dico è difficile vedere qualcosa di cross border finché questa situazione non sarà definita, cioè non si saprà esattamente o più o meno esattamente quante perdite ci saranno sui crediti per il fatto che i prestiti in moratoria finiscono in NPS. Diverso, magari, è il discorso se si parla di fusioni tra banche piccole di un paese o acquisizione da parte di una banca grande di una banca più piccola in un paese, come sta succedendo in Italia, dove Intesa ha comprato UBI, Credito Agricole, Cariparma, ma sta cercando di comprare il Creval. Cioè, queste cose sono sempre possibili. Nel senso che il consolidamento interno è sempre possibile anche perché i player conoscono la qualità degli asset, delle target e quindi è più facile. Che venga una banca straniera a comprare qualcosa di grosso in Italia per adesso io francamente non lo vedo perché ognuno avrà i suoi problemi diciamo di bilancio nel prossimo anno o due nel capire quante perdite ci saranno dalla situazione che è stata provocata dalla pandemia. Per cui io cross border, secondo me, a breve non ne vediamo. Internamente, invece, sì, ci potrebbero essere delle acquisizioni. Sì, bisogna dire che nel passato, forse circa un anno fa, c'era l'ipotesi, adesso se sbaglio mi corregga per carità, tra Commerce Bank e Unicredit, però ovviamente è un'ipotesi che è naturalmente sparita. Sì, ce ne erano tante, c'era anche per un po', due anni fa, c'era l'ipotesi di una fusione tra Sovgeno e Unicredit, però molto onestamente io penso che proprio la pandemia funzionerà da acceleratore del processo di consolidamento interno e poi ci saranno anche delle fusioni trasfrontaliere perché comunque il modello di business bancario tradizionale è messo sotto pressione dagli onliners e quindi ci vuole dimensione e bisogna cercare di tagliare i costi perché di sicuro la top line non sale molto e quindi l'unico modo è di fare dei soldi e di alzare i ritorni e cercare di diventare più efficienti. Allora, intanto vorrei far vedere, questo è l'ultimo argomento che affronteremo insieme, il titolo Leonardo oggi cede il 6,64% per motivi ovvi, Leonardo ha deciso di rinviare l'IPO di Leonardo DRS, la società americana controllata indirettamente tramite Leonardo US, nonostante l'interesse degli investitori nel corso del roadshow all'interno della fascia di prezzo definita, le avverse condizioni di mercato non hanno consentito un'adeguata valutazione di DRS, DRS spiega ovviamente la società, DRS continua ad essere una parte fondamentale del portafoglio di business di Leonardo e un'IPO verrà valutata nuovamente quando le condizioni di mercato saranno favorevoli e sarà possibile ottenere un'IPO di successo con una valutazione appropriata di questo business strategico. Volevo sentire velocemente il suo parere sul rinvio di questa quotazione e quanto è importante per l'azienda. So che dire, nel senso che citare adverse market conditions con i mercati ai massimi diciamo fa un po' ridere, nel senso che non so che cosa bisognava avere per non avere adverse market conditions e il mercato americano è gli massimi degli stramassimi. È possibile che la valutazione che Leonardo voleva ottenere dalla vendita di DRS non sia stata la valutazione alla quale gli investitori avevano indicato di volere comprare le azioni di DRS e quindi più che di adverse market condition parlerei del fatto che la valutazione del venditore e quella dei compratori erano diverse. Dopodiché sugli asset dove c'è di mezzo il governo asset militari è sempre difficile dire qualcosa di sensato nel senso che magari anche il governo americano non ha gradito non lo so cioè quello di cui quello che sappiamo è che la società ci ha detto che non c'è stato matching tra domanda e offerta per ripeto adverse market condition però lo escluderei visto che gli indici sono tutti ai massimi cioè semplicemente la differenza di valutazione tra venditore e compratore capita Ok grazie mille Gianluca Codagnone Managing Director Fidentis grazie per essere stato con noi buon proseguimento Arrivederci ciao